Ehi là ragazzi, allora oggi un video super super divertente perché qualche giorno fa nella mia live sul sito Viola mi è capitata una partita che non ha un senso di esistere perché in pratica ero sia impostore che cremate, così si può dire e quindi ragazzi non potevo non farvela vedere quindi niente, vi lascio alla partita non posso, non c'è WHAT?! WHAT THE FUCK?! Io... Raga? Ma che è successo? Mi vedo tutti bloccati io, è una mia impressione Non ce la posso fare No, fuck, ma quella mappa lì pensavo di essere ancora nella lobby Ma... Perché mi hai detto che ero cremate in realtà sono impostore? Io pensavo che fosse gasp No, aspetta! Mi sta facendo fare le task! Raga? Raga? Cioè io sto facendo le task, ma posso uccidere la gente? No, scusate, prima c'era il tasto kill No raga, ma che è successo? Oh mio dio! Non ho capito, ma quindi sono impostore o no? Raga, io... Raga, io... Io non ho capito! Ma non posso fare niente, prima avevo il tasto kill mi pare all'inizio, adesso non ce l'ho No raga, cioè io... Appena trovano un corpo... Che... No raga, no raga, vi prego ditemi che non sono l'unica che è buggata nella maniera più incredibile e assurda della storia Che senza? No... Allora... Allora... All'inizio avevo il tasto kill, però ho fatto due task e me le ha fatte fare e mi ha tolto il tasto kill All'inizio mi ha detto crewmate, ma vedevo solo due persone Dopo mi ha tolto tutte le cose da impostori, quindi avevo solo la scritta rossa Poi sono andata in specimen room, ho visto new start in piedi sopra la scrivania dove si fanno i numeri Poi è uscito come se fosse un fantasma e poi hai chiamato il report Cosa cacchio è successo? Dopo lo potete vedere nella mia live ragazzi Adesso mi vedo il nome bianco in compenso Cioè, ho iniziato da impostore e adesso sono un crewmate, non ho capito Hai cambiato passione? Io non ho capito, oh mio Dio Doppio giochi Ma ci sono due impostori comunque? Non ho capito, a parte che non mi ricordo chi era l'altra persona che ho visto all'inizio Perché eravamo in due, ma ce l'ha scritto crewmate ed eravamo in due E poi c'è all'inizio io potevo fare una kill, ma All'inizio avevo il tasto kill, però adesso non ce l'ho più E adesso non ho più il nome rosso, non ho capito Erika, sai cosa significa questo? Che? Che ti devi schierare in una fazione o nell'altra Quindi oggi dici chi è l'altro impostore Non me lo ricordo chi era l'altro Giuro, giuro, non ci ho fatto caso perché ero confusa dal fatto che fossimo solo in due C'era la schizurra Ma quindi sei impostore o no? In teoria no, ho fatto le task Ma nel senso, saresti il terzo impostore o il secondo? Ah, non lo so, non lo so, davvero Solo l'altro impostore credo che sappia la risposta Cioè, se è uno, perché potrebbero essere due, io no Se ti buttiamo fuori Ah, è vero, ora mi sono ricordata chi è l'altro in caso Vabbè, allora, facciamo finta di niente Elisa, dov'era il cadavere? Aspetta, hai trovato New Start? Sì, ma è quello Ma è quello che io ho visto passare nel muro? Vabbè Cioè, ovviamente c'è gente che passa attraverso i muri Dai, mi stavo votando da sola, non ho capito niente, raga No, raga, non ho capito niente Ma io voglio capire adesso se Ravanello oppure... Ma, solo io vedo tutto nero? Eh beh Esattamente sì Esattamente sì Sono crashata allora, mi sa, in qualche modo Mi stai muovendo, Ravanello Ah, quindi se muovi i tasti mi muovo, però io non vedo niente, vedo tutto nero Sì, sì, vai a destra Alla guida Giù, giù, giù No, un po' più a sinistra e giù Che devi uscire dalla stanza Brava, perfetto Ora sei uscita E ora non so, non so cosa devo fare Cosa li fai da Labrador? Eh, niente raga, devo... No, ma io volevo sapere Dai, però vabbè, devo chiudere il gioco per forza Aspetta, aspetta, aspetta Aiuto Cioè, ho visto erica per No, no, anche se avete schiacciato il tasto io sono... Vedo tutto nero, sì, devo chiudere Non ho parole, veramente Questa è stata la partita migliore della mia vita Questa partita è stata assurda E finita anche un po' male Perché alla fine sono crashata Perché era proprio un bug enorme Però è stata davvero... What? La prossima che vi faccio vedere invece è capitata sempre la stessa serata È cominciata come una partita normalissima Poi è successo qualcosa Abbiamo cominciato tutti a trollare tantissimo Trollare significa in pratica giocare Non seriamente, facendo semplicemente i cretini Niente, anche questa alla fine è stata divertentissima Adesso si sa vedere che l'impostore mi lascia vivo L'impostore mi lascia vivo così Poi accusate me Ma davvero hanno già acceso le luci E si ritorna alle origini Musolino, da te è uscito qualcuno? Sì, ho visto qualcuno ventare Dove l'hai tirato? Io ho tirato subito sulle luci Spiegate? Nel tubo Se non lo smettete di chiamarlo tubo vi uccido tutti Di decontaminazione Ho visto il corpo di Viola Sono sceso giù perché c'era Si erano appena aperte le porte Quindi doveva essere rimasto bloccato lì Oppure avventato Ho visto che c'era Musolino fuori dalla porta Di là e ho detto Dimmi che hai visto il colore No, ho visto tanto la mente che si apriva dalla porta Ma non si vedeva il colore Beh, per discussioni sono ravanelli tipo all'occhio Io sono stata in caffetteria tutto il tempo Non è entrato mai nessuno però Io sono andata in caffetteria Ho raccolto il Come si chiama? Il naccatoio Quello Che a quanto pare non so scrivere Avevamo visto su Scribble E poi ho fatto gli asteroidi Stavo tornando su E avete chiamato il corpo Io ho fatto admin Ho fatto gli studenti No, no, no Quando hai fatto admin, scusami All'inizio proprio Noi ci siamo andati subito in admin Siamo andati subito in admin Sì, infatti scendivo Mentre voi andavate No, non sei mai arrivata Siamo i primi a essere partiti E dai chiamati direttamente in admin Ok, ciao cipollotto Elisa Non ce la farò mai Ma ci provo, ci provo, ci provo Io ho scioccato Sciocco basito Ema Sciocco basito Bastami un euro monte Non hai soldi per la bibita Crevo che la bibita vuole Quale è che vuole Troverò mai qualcuno da solo Giusto per capire Dice Elisa Però prima ha visto entrare Quanta gente Palle Dove siete tutti Please Finalmente Ma vi ha ventato qualcuno davanti Ma qui c'è 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 Ma un ramanello che andava su e giù E c'è Ora mi avete beccato Mi sono messo a trollare Però Elisa Votiamo Elisa Che figura di merda Mi sento male Mi sembra dare la vista Vintare su e giù Abbiamo vinto Ah no Ah no Sto a perdere Ve lo dico Perdiamo Tutti su Tutti su Tutti su Oddio ragazzi mi sento male Beh non ha capito cosa stai facendo Tutti su Guarda Erika che continua a ventare Raga sto piangendo E Musolino E' palese che sia Musolino E' palesemente Musolino Mi sento male Ti sento malissimo Sto soffocando ragazzi Muoio Oh mio dio raga Oh mio dio Assurdo Inaspettato Strabiliante Eh visto quanto sono stata brava Bene ragazzi Quindi questo era il video di oggi Io spero davvero che vi sia piaciuto Secondo me è stato un sacco divertente Mi raccomando seguitemi Sul sito Viola Che faccio live ogni sera Mi chiamo Erika TV Trattino basso E niente ragazzi Noi ci vediamo presto Col prossimo video Ciao Ciao